Bene, benvenuti su Among Us, di nuovo, ancora una volta Su Among Us Allora, siamo in questo server che ha già 9 giocatori perché io ho un pinguino in faccia Sì, vabbè, ma mi arrivano tutte le notifiche adesso, cioè Bene, siamo partiti e io ho un fiocchetto No, è un cappettino da festa, meno male non me l'ha messo in tempo il fiocchetto perché io l'ho... No, ho il fiocchetto, maledizione, adesso sembra che sono una femmina Ah, ok, bene, facciamo il task Bene, sono già morto Bene, grazie, sono felice Va bene, cioè, sono felicissimo Sono... Felicissimo sono Come si fa questa cosa? Presto start Io, vabbè, però, cioè, scusate, adesso tutti mi arrivano le notifiche Spero di averla fatta, la task Anche se non ci conterai tanto Andiamo qua Ma cosa sta succedendo? Ma io non ho manco visto chi è che mi ha killato Ah, mi hanno trovato Grazie al cielo Io provo a scrivere, anche se so già che non mi vedranno No, ma io non so manco chi mi ha killato No, 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 io non esco Vorrei votare Però non so chi votare Ah, è stato questo qua, Little T Provo a scriverlo e magari mi vedono Magari c'è un bug Magari c'è un bug, chi lo sa che lo vedo No, 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 non c'è un bug Io non lo vedo Bene, votate Little T Che è anche il passamontagna Quindi si capisce Oh, dai, votate Little T Ma cos'è Little T? Piccola, piccola T Cosa vuol dire Little? Boh Oh, no, non è l'orange No Sì, ma che schifo Io ho il fiocchetto Cioè, ho il fiocchetto e sono morto subito Va bene Little T, va bene Hanno votato Little T? No, nessuno ha votato Little T No Dai, votate Bene Non è l'arancione Their name Senza l'h Perché ci vuole l'h Non lo so manco se ci vuole l'h Non so cosa sto dicendo in questo video Ragazzi, che bello Andiamo nello spazio infinito Oddio Ok, si blocca a un certo punto Mi pareva strano Che si poteva andare così lontano Cosa sta succedendo? Dove sono? Ma dove sono? L'ho detto io C'era un bug E' tutto bugoso Among Us Ma arrivano tutte le notifiche adesso Ma scusate Allora, va bene ragazzi Questo episodio brutto Diamo un cast Mi stava cadendo il telefono Finisce qui Ragazzi Ciao